signore non vuole sedersi come va è soltanto un graffio sto facendo bollire un po d'acqua tengo grazie prego il capitano mi ha detto che faceva l'avvocato prima della guerra si è vero spesso mi occupavo di contratti e regolamenti vede maggiore io e mcmurtry siamo dei soldati professionisti se non fossimo qui saremmo in un altro fronte lei potrebbe occuparsi di affari legali nello staff del generale non credo che mi piacerebbe lavorare per il generale alexander non trova giusto che siamo qui vero no beh considerando che la pensa così cosa ci fa qui la vita sarebbe molto più semplice se potessimo scegliere sempre i nostri doveri ma non è così non possiamo per questo sono qui